Vabbè vince questo uno dopo Sì, lo stesso Quindi cosa dobbiamo fare? È già posto Come è già posto? È già posto E io? Ti ho dato un euro Il caffè no, questo E allora c'è rompi Tu non c'è dubbio, così ci sentono anche in live Che copie live questo 9 più 3,50 Sì, 12,50 Devo dare anche 12,50 12,50 E' stato bellissimo pinta Che cosa? Non ho fatto niente Per 12,50 Scusa Eh no, perché se vediamo è che ti dà i soldi No, no, no Perché ci vediamo che ti dà i soldi Sì, me ne se do, mi sono anche i suoi ammazzi di giugli, io ho tutto, ah, no, me ne se ne sono due, questa teglia. Chi inizia? Dadino? È una bella carta di me. Passo. Non lo so, Martino, è un campadero, vicino a... Paglio tre. Stai dritto con la schiena. Paglio tre. Ma ce le hai tutte le faccio con i colori bianconeri? Tutte fanno via con lui. Ma come è che? Un marchflat. Un marchflat. Un marchflat. Guarda 1-27. Iguale numero. Gioco un antenato mir. Quando vuole fai un mir. Sì, lo sostituirlo, vai. bello, mettere tipo l'hangar back un po' più forte gioco di un favo arcano meno di 6 aiuto è tutto di 1 vai è un po' più forte Sì Ma solo ehm... Quattro Ciao ciao Faccio davetti Più due Poi Scarto pesco Ci pensi Ehm... 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 Vai Ehm... 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 Sì, lo spacco al pescubo. Sto pensando sì. Non è tutto il due mani. Sì, uno tappo se lo pesco. Ok, fine combat, secondo me un phase. Non hanno raggiunto il giocato. Faccio fitless looting. Sto due. Sto due. Sto due. Sto due. Sto due. Wow! Un bacno, scuola. Fai. Non ci sono. Uno不i. Eccle. Sto due. Sto due. ma un marchio senza farlo chi viene stasera Ricky? sono parte di uno, due altri suoi tre amici con lui, con lui, con Kane e forse il gruppo di... di Michael... di età vera un momento da c'è uno ciao 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 non sono ancora venuti per te? no ecco mi ha toccato a giocare che giochi che giocano gli avversari costano due in più poca puttana oh io provo da fuori da fuori e cosa vuoi? ma te te lo piace? si si ad adorare mi rompe bene basta qui, gioco questo poi non mi piace non funziona che passo? no dietro uno, pesco quattro, cambio quattro ok mi piace troppo ti rompi tu rompi tu non ci vedo siamo arrivati? ho fatto un peccanale un po' sei in giù qui c'è l'ultima tappa? no oh sono dieci oh bello come se fai di video fai di tour un certo l'hai iscritti mmm utile da allora 2 Sì Scurto 2 Scurto 2 Combat Me lo spacco Ok Ehm Penso Top 3 prende mano Faccio Landa Ehm 4 Faccio stazione commerciale Vai Faccio Se ne sono 5,5,3,4,5 Ti ricordi la prima? No Intanto la prima e due La ultima e due Dimmi pure le ultime decine Ehm Super 7,1,0,5,3,9,7,4 Ehm 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 Cosa? Cosa c'hai? Ehm 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 Bon, dai Vediamo così, dai. Io perdo, ok. Quindi io perdo uno, giusto. Se ne interessa, cioè, a fine anno se ne fai parecchiamenti, per avere dei comodi, per avere qualche modo, per conoscere. A me se ne sono per avere il codice tuo... Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ok... Che cosa ti tieni, Marco? Eh, ti godo tutto, tranne quelle che cambiano i punti di vita. Ok... Ok... Vai! Stai, aspetta poi mi sceggo le cani. Eppure... Eppure... Ok, Juan, grazie a voi. Sì, è solo sale. Proviamo? Sì, sono inizia. Sì, è vero. Eh sì, adesso devo scegliere e poi faccio la mia mossa. Sceglia pure la mia. Eh, io faccio il raggio di cavolo, guarda su una cavolozza, a che quota 6, guarda che io non ho il limite di cavolo in mano, perché non ho il limite di cavolo in mano, ah è vero, allora ti puoi tenere tutto in mano, vai. Eh, io posso fare una cosa tipo, tappo 2, tappo sacrificio, quando mi hanno fatto il cimitero. Mi hanno ricontro una. No, c'è la bomba di pire. Aspetta, però c'è qualcosa. Eh, può essere che tu abbia qualcosa, hai comunque un mano. Allora, ora lo spaviamo. Lei è la che prende in mano, eh? Sì, sì. E se io sentivo come buona... Provavo a giocarla. E non c'è un ponte. Cioè, ho pensato a combattere i periti. E io non ho creato un ruolo in gioco. Non posso mettermi uno spugno. Posso cambiarmi una carta con quella che c'è lì sotto? Oh, sì, perché non sai cosa. E niente, è finito. Ti sparo, tu hai dato. E niente, Arik, è finito il video. Ha vinto il pinto, ho pescato solamente... Tanta sacchina. Ho pescato solo...